I numeri di contagi giornalieri sono aumentati negli ultimi giorni. Immuni non arginerà da sola la diffusione del virus e ci sono alcune considerazioni da fare. Però penso sia giusto installarla. Ora, non ne voglio fare un discorso troppo politico di numeri, ma di pro e contro dal punto di vista della privacy e della salute pubblica. Ho provato anche a cercare uno slogan per invogliare i giovani ad installarla. Tutto inutile. Se magari gli si metteva una funzione di filtri per Instagram, TikTok o un collegamento a Pokémon Go, c'era qualche speranza diventasse cool. Così non fa nulla. Comunque, tutta la documentazione della app e i numeri più grossolani sono sul sito di riferimento che è immuni.italia.it. Faccio un breve repilogo di com'è iniziata la discussione per la creazione di questa app. Subito doveva essere un'app mostruosamente invasiva, tanto che ero totalmente contrario al suo uso. Identificazione dell'utente, degli utenti con cui si veniva in contatto, server centralizzato, bluetooth e GPS necessari. Una cosa che al solo pensiero mi ha fatto letteralmente rabbrividire e ricordare certi controlli praticati in Cina. Da notare che questa repubblica solutistica, cioè quella cinese, ha attualmente sotto controllo la malattia, però inizialmente, insambiando il tutto, ne ha permesso la diffusione del mondo. Il controllo lo ha ottenuto a discapito però della privacy e delle libertà della popolazione. Vi lascio un articolo in descrizione fin troppo lodevole nei confronti di azioni che molti italiani allergici alle mascherine dovrebbero definire dittatoriali. Dal lato opposto il metodo USA è di non fare nulla e di arrangiatevi da soli. I dati degli infezioni e dei morti sono emblematici, soprattutto per come sono divisi per ceto sociale. Quindi inutile parlarne. Fortunatamente in Europa la libertà e la privacy e la salute pubblica sono più sentite e anche grazie a Google e Apple, che non hanno voluto creare modi che potessero però indebolire i loro sistemi operativi, sono state create app come i moni molto sicuri dal punto di vista della privacy e delle libertà personali. Nessuna identificazione o associazioni che sono comunque criptate in locale e i messaggi al server centrale solo in caso si risultasse positivi o per controllare se si fosse venuti in contatto con qualcuno risultato infetto. Incredibilmente è un sistema che ha tranquillizzato il complottista da grande fratello che è il me. Risolta la questione privacy bisogna guardare al lato della salute pubblica. L'app non è certo da sola quella che ci salverà dal covid, ma renderà solo più semplice per il servizio sanitario comunicare a possibili contagiati di essere venuti in contatto col virus e quindi rendere tempestivi i controlli. Ovviamente viene lasciata la libertà di cosa fare in caso si riceva sul telefono la notifica, ma autosegnalandosi si agevola il lavoro di ricostruzione dei contatti che comunque verrebbe fatto dal servizio sanitario. I dati di adozione dell'app, come potete vedere, aggiornati alla fine di settembre, sono però scoraggianti. Nella mia regione, che è la terza come percentuale di adozione, solo il 15,5% della popolazione la usa. Visto l'alta penetrazione e uso dei telefonini nella società italiana, speravo almeno in un 40-50%. Io personalmente vi invito ad usarla, ma devo anche segnalarvi i lati negativi a questo punto. Premesso ancora che se non vi autosegnalate non vi succederà nulla, perché nel sistema non si sa che è effettivamente arrivata a voi la notifica, se decidete giustamente di chiamare il medico della mutua o il servizio di igiene pubblica locale, scatteranno diversi obblighi che esulano però dall'uso o meno dell'app, ma che sono gli stessi che se si venisse contattati direttamente da questi servizi, perché eravate in un locale una sera in cui è stato trovato un contagiato. Ripeto bene quindi che quanto segue è il comportamento generico in un possibile caso di contagio e non c'entra nulla con l'uso o meno di immuni. Il primo punto è l'isolamento imposto che, violato, produrrà multe non di poco conto. Il tampone verrà comunque schedulato a seconda dei casi entro 24-72 ore e a seconda delle regioni si potrà essere invitati ad usare o meno la propria macchina solo per recarsi nel luogo preposto al tampone, che verrà svolto rimanendo nel proprio mezzo. I conviventi in questo frangente non saranno tenuti all'isolamento obbligato. Dopo il tampone ci avranno i risultati in 24-48 ore e ci sarà obbligati a rimanere in isolamento in quel caso. Ovviamente in caso si fosse positivi i congiunti e i conviventi ripeterebbero la vostra stessa procedura. L'unica nota veramente negativa è che non mi aspettavo è la seguente. Nei primi tre giorni di attesa dal tampone, se foste come si spera lavoratori non in smart working o tele lavoro, sarete tenuti ad usare delle vostre ferie per colmare l'assenza lavorativa e solo dopo subentrerebbe l'Inps. Lo ammetto senza problemi, questa cosa mi ha fatto incavolare parecchio. La capisco perché l'azienda è già vessata dalla situazione finanziaria e spesso finanziata anche dalla cassa integrazione dallo Stato che quindi ci sta già cacciando fuori tanti soldi. Però proprio mi sta su e non riesco ad accettare di dover usare anche delle ferie mentre ci si sta già impegnando attivamente per contenere questa brutta situazione che ci ritroviamo comunque a condividere tutti quanti. L'ultimo punto di cui voglio parlarvi è legato ai numeri di immuni. Non ha trovato molti infetti, come dicevo sopra, ed è dovuto alla scarsa penetrazione nella popolazione ma anche, a quanto pare, alle ASL che si stiano dimenticando di chiedere il codice dell'app agli utenti una volta trovati positivi. Questo sommato a quelli che comunque l'hanno installata ma che fanno orecchie da mercante non è proprio un bel biglietto da visita. Spero con questo di aver reso più chiare alcune sfumature di questa app che vi invito comunque ad installare e a promuoverne l'utilizzo. Vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere mi piace, commentare e condividere questo video. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!